Siglo Guzmouros Revisore Sergio Aguante Revisore Eccoci, salve a tutti. Io oggi vi racconto la storia, la storia di un ragazzo che a 16 anni decide che voleva fare impresa. La mia storia personale, fatta da tempo, da fatica, da trasformare quelle che erano considerate cose impossibili in cose possibili, è una storia di perseveranza che ha seguito una visione e che è riuscita ad arrivare a compimento grazie alle connessioni, alle contaminazioni che sono riuscito a coinvolgere lungo il mio percorso. Io già a 16 anni mi guardavo avanti, guardavo avanti la mia vita, guardavo la mia vita a 30 anni, oggi ne ho 32 e cominciavo a pensare che volevo creare qualcosa di mio, creare qualcosa di rivoluzionario, ma a 16 anni la spensiatezza dell'età ovviamente non mi portava, non avevo nemmeno l'esperienza a quell'età per capire dove, in quale settore, cosa volevo fare. Però già sapevo dentro di me che non avrei lasciato agli altri decidere cosa fare nella mia vita. Sono stato anche bocciato al secondo anno del liceo, non ho detto primavera ma sono stato bocciato ugualmente. Il percorso di studi è stato un percorso di studi travagliato perché guardavo sempre chi mi dava indicazioni con Remore, non volevo che qualcuno mi indicasse cosa fare. Poi è arrivato il momento dell'università, che è il momento più difficile per un ragazzo perché è il momento in cui devi decidere realmente cosa fare nella tua vita. E io ancora non avevo deciso. Prima facoltà, ingegneria gestionale. Al primo esame in itiner di analisi 1, matematica 1, il professore entra in aula con una maglietta che ho scritto minimo 7. Il mio collega di università gli chiede al professore cosa vuol dire minimo 7. Minimo 7 volte prima di passare l'esame. Io gli ho preso il mio zaino, ho chiuso i libri, ho scappato via dall'università, sono tornato a casa e dico a mia madre, mamma cambio facoltà. Mia madre giustamente mi dice perché? Perché? No, perdo troppo tempo, ingegneria gestionale perderei troppo tempo. Io non volevo perdere tempo. Allora decido di iscrivermi in giurisprudenza. Do i primi sei esami e a un certo punto faccio una riflessione. Conto gli anni prima di arrivare nel mondo del lavoro e capisco che non avrei guadagnato un euro da giurisprudenza prima dei 28 anni. Sino ai 28 anni non sarei stato con una stabilità economica e dovevo stare ancora dietro a mamma e papà. Ed è quello che io non volevo. Nuovamente lì scappo, scappo dall'università e questa volta dico ai miei, io voglio lavorare, io voglio fare impresa. Mio padre aveva una piccola impresa di costruzioni ferroviarie, manutenzione e costruzione di linee ferroviarie. E quindi chiedo a lui di andare a lavorare con lui. Ma non immaginatevi che mi ha dato una scrivania o un posto a sedere dietro un ufficio caldo e comodo. Mi ha dato guanti, scarpe antinfortunistiche, caschetto, tuta da cantiere e mi ha spedito a mille chilometri da casa mia, a Busto Arsizio, in un cantiere. Io ho fatto l'operaio dai 19 ai 25 anni. Il mio primo ruolo in cantiere era a luglio, c'erano 30 gradi all'ombra. Il mio ruolo era saldare le rotaie, 1800 gradi, saldatura luminotermica, fusione di acciaio. I miei amici erano in vacanza, io saldavo rotaie. Oggi ringrazio mio padre perché mi ha dato la possibilità di imparare un mestiere, di fare un'esperienza che mi ha portato in un contesto totalmente nuovo, sconosciuto per me, che era il mondo del cantiere, stare a contatto con persone totalmente differenti da me, con una differenza di età. Sino ai 26 anni, quando decido che volevo creare qualcosa. Per me la fase della vita fondamentale di un uomo, di una donna, in cui si pongono le basi della vita, sono dai 16 ai 25. Poi dai 25 la lancetta comincia a fare scattare il tempo della maturità. E quindi io già a 26 anni mi sentivo già vecchio, e che non avevo ancora creato qualcosa di mio. Poi un giorno l'illuminazione. L'idea di rivoluzionare un settore, il settore delle traverse ferroviarie. Le traverse ferroviarie sono quelle strutture che compongono i binari. Anticamente erano in legno, oggi lo standard è costituito alle traversine in calcestruzzo. Ancora per poco. Considerate che queste strutture in calcestruzzo sono state ingegnerizzate nel 1900. Noi oggi andiamo sui treni, su una struttura, una sovrastruttura ferroviaria, ingegnerizzata nei primi del 1900. Queste strutture creano alti costi di manutenzione. E io capisco che c'era un gap in questo mercato. guardavo a quelli che erano i megatrend del settore. La green economy, la circular economy, il riciclo di materie prime, quindi le materie prime e seconde, creare prodotti in grado di dare un futuro sostenibile alla collettività. E da lì metto in moto la mia startup. Non ero ingegnere, cerco le competenze. Cerco le competenze, mi affianco a un industrial designer che insieme a me progetta la traversa Green Rail. Nel 2012 costituisco la mia startup in un momento in cui di startup non se ne parlava. Io non dico sempre, non ho costituito una startup, ho voluto costituire un'azienda. Ma tutto quello che vedete qui, io lo traduco anche in fortuna. aver avuto la visione di mettere sul mercato un prodotto giusto nel momento giusto, nel momento storico giusto. Oggi Green Rail è brevettata in 80 paesi del mondo, è un prodotto ingegnerizzato, forniamo vari paesi nel mondo. e a 32 anni oggi sono a capo di un team che è in forte crescita. E tutto questo è stato possibile grazie alla visione che ho avuto quando avevo 16 anni. Cioè quella di dire io nella mia vita voglio lasciare il segno. io nella mia vita non volevo valere soltanto i due euro del mio corpo, come diceva Lorenzo. Allora, cosa ho fatto? Ho cercato le migliori competenze, sono partito, sono andato fuori dalla Sicilia, mi sono trasferito a Milano e la mia startup è stata incubata, ho avuto la fortuna di riuscire a convincere il Politecnico di Milano a supportarci. Perché il Politecnico di Milano? Perché era il quinto centro di ricerca migliore in Europa nel settore ferroviario. Come ho creato la connessione? L'ho voluta e l'ho creata. Ho scritto a cinque centri universitari una mail, mi hanno risposto solamente in tre, ma non il Politecnico, che era quello che volevo. Non mi sono abbattuto, ho preso un volo, sono andato lì, ho bussato la porta, mi sono presentato e ho cercato di convincerli. Gli ho convinti. Oggi noi siamo fra le startup di punta del Politecnico di Milano. Ho cominciato a partecipare a tutte quelle che erano le competition per startup. Io prima non riuscivo a stare su un palco. Ho fatto anche l'animatore turistico nei villaggi come istruttore di vela e la prima volta che mi hanno detto di salire su un palco avevo già pronta la valigia per andare via. Però ho dovuto imparare anche a comunicare l'idea. La comunicazione delle idee è la base per renderle credibili. E negli anni in cui il prodotto ancora non esisteva, era soltanto una bella idea, comincio a vincere competition per startup. Si comincia a parlare di Green Rail. Green Rail va sui giornali. Cominciamo a vincere premi, anche premi economici. Sino a un giorno in cui il mondo mi crolla addosso. Dovevamo sviluppare la miscela in plastica e gomma riciclata per realizzare il nostro prodotto. E gli esperti chimici quando gli presento l'idea mi dicono impossibile. Eravamo nel 2014 il brevetto era già depositato in 148 paesi avevo vinto premi per startup avevo vinto premi economici e mi sento dire dagli esperti impossibile. lì le scelte erano due mollare e non sarei qui a raccontarvi questa storia o perseverare. Ho avuto il coraggio di decidere di investire e ho detto a loro i fondi sono i nostri dimostratemi che questo è impossibile. Dopo aver testato più di 30 miscele il risultato è che oggi noi abbiamo creato una miscela composita da plastica da rifiuto urbano e gomma da pneumatici fuori uso unica al mondo perché è l'unica in grado di essere stampata in iniezione che è un processo industriale abbastanza particolare. Questo ve lo racconto perché molte volte nei progetti che hanno successo i progetti che che poi arrivano sul mercato e che cominciano a fatturare si conosce soltanto una parte la parte quella della comunicazione quella che va sui giornali quella bella ma non è per niente mai un percorso facile creare innovazione creare innovazione soprattutto in dei settori industriali che sono altamente chiusi all'innovazione pensate al mondo ferroviario vi ho detto prima dai primi del novecento ci sono quelle strutture quindi un mondo dove convincere sull'innovazione è difficoltoso e farlo da start up e farlo da aziende piccole è ancora più difficoltoso però tutto questo è stato possibile grazie alla contaminazione che sulla nostra storia è avvenuta le connessioni noi oggi abbiamo creato una rete di relazioni con centri di ricerca partner industriali che hanno avuto l'intuizione e la visione di credere in quell'idea folle di un ragazzo e che sono riusciti insieme a noi oggi a creare qualcosa di assolutamente disruptive dirrompente noi oggi ci troviamo in una fase di overbooking Green Rail oggi è conosciuta dall'Australia agli Stati Uniti dal nord Europa al sud Africa siamo in una situazione in cui non riusciamo a dare seguito a tutte le richieste che arrivano dal mondo però quello che voglio lasciarvi oggi è un messaggio non è impossibile è possibile per tutti fare questo quando io mi ritrovo in questi contesti mi sento quasi trattato come un uomo straordinario non sono per niente straordinario ho soltanto creduto nella mia idea ho convinto le persone sulla mia idea ho dimostrato che l'idea era possibile e tutto questo si è tradotto in un successo oggi a 32 anni posso dire che 16 anni fa quando ero sul mio Vespino che immaginavo la mia vita a 30 anni posso dire di avercela fatta e quando parlo a un pubblico ai giovani a delle persone che mi guardano come esempio dico solamente che tutti quanti sono in grado di farcela grazie applausi grazie grazie Grazie.